Sulla ricerca no profit si è svolto un importante convegno nazionale Fadoi al Ministero della Salute. Noi eravamo lì per voi. Presidente, quali sono le finalità di Fadoi e questo importante convegno nazionale? Che cosa si propone? La Fadoi è una società scientifica composta da più di 3.000 soci e conta su di un network di 150 ospedali su tutto il territorio nazionale. Noi siamo i dottori, siamo gli internisti, cioè i dottori degli adulti. Il motto della Fadoi è stato sempre quello di formare la ricerca e fare ricerca per formare. Questo è il nostro scopo, perché la ricerca migliora la qualità dell'assistenza e l'assistenza esprime i bisogni insoddisfatti che danno gli spunti alla ricerca. Questa è contemporaneamente la finalità di questo nostro progetto, che oramai è alla sua quinta edizione e si svolge ad anni alterni e che si pone proprio il compito di valorizzare, promuovere, facilitare quella che è la ricerca da promotori no profit. Cosa significa dare priorità alla ricerca no profit? La persona al centro della ricerca, intendendo come persona però non soltanto il paziente, ma lo stesso effettore della ricerca, il medico, l'infermiere, lo scienziato dedicato, ma anche il rappresentante delle istituzioni che poi deve permettere il concretizzarsi di una ricerca indipendente nei suoi contenuti scientifici, ma che poi sia anche produttiva ai fini del miglioramento dell'assistenza. I fondi europei sono essenziali per la ricerca no profit. Horizon 2020 è un progetto importante al quale l'Italia partecipa, però se non si snelliscono quelle procedure che permettono di poter utilizzare i fondi europei disponibili nella migliore maniera possibile, tutto questo viene vanificato. E l'agito è un premio Fadoi, quest'anno a chi va? Al professore Garattini, proprio per l'impegno e per la grande dedizione che ha contribuito allo sviluppo della ricerca in Italia e della ricerca clinica in particolare.